Musica Musica Abbiamo pensato di organizzare questo convegno che segue un'altra serie di convegni simili per mantenere i rapporti vivi con la comunità scientifica cardiologica in un momento in cui questa condizione è piuttosto complessa e resa difficile da questa contingenza. Abbiamo deciso di non rinunciare a questo appuntamento. Riteniamo infatti che gli argomenti di cui si parla siano interessanti e molto rilevanti e ci permettono di migliorare il livello del nostro lavoro che ricordiamocelo sempre nonostante appunto questa emergenza del covid rimane fondamentale essendo la cardiologia le malattie cardiovascolari in generale la causa principale di morbidità e di mortalità nelle nostre popolazioni. Quindi continuare a scambiarsi e a condividere esperienze, novità e dati scientifici ci servirà per continuare a curare al meglio i nostri pazienti anche in un momento di crisi come questa, anzi in particolare in un momento di crisi come questa in cui è necessario essere particolarmente attenti, particolarmente bravi se è possibile. Quindi ovviamente questa cosa è stata resa possibile, questa attività intanto dalla sponsorship di case farmaceutiche che ci hanno sostenuto ma soprattutto dal lavoro in defesso di chi l'ha organizzato, in particolare il dottor Venturini e tutti i cardiologi del reparto che io dirigo, insieme con i provider, insieme con tutti quelli che hanno garantito e permesso di svolgere un convegno come se si fosse in presenza utilizzando dei mezzi che però non sono proprio quelli a cui siamo abituati. Per cui ringrazio tutti, ringrazio anche il comune di Cecina, il sindaco Samuele Lippi e l'assessore Zuccherelli che sono stati come sempre molto sensibili a questa iniziativa e ci hanno sostenuto sia dal punto di vista diciamo morale che dal punto di vista pratico concedendoci questa sede dove si stanno svolgendo i lavori anche se non c'è presenza di pubblico. Siamo al terzo congresso tosco-umbro di cardiologia riabilitativa che abbiamo avuto l'onere e anche la fortuna di organizzare qui a Cecina. La tradizione della riabilitazione cardiologica è una tradizione che a Cecina è data da molti anni. Il trattamento di riabilitazione cardiologica come oggi in maniera più moderna si dice di cardiologia riabilitativa consiste in affrontare a tutto tondo le problematiche della cardiopatia, nella fattispecie della cardiopatia ischemica ma anche delle cardiopatie valvolari e delle miocardiopatie. Cioè si tratta praticamente di fare una valutazione completa di quello che è il profilo di rischio del paziente cardiopatico, di intervenire quindi su quelli che sono appunto i fattori di rischio ma anche di intervenire sulla capacità funzionale, cioè su quanto la cardiopatia ha inciso in termini di riduzione delle capacità motorie e quindi nella vita di tutti i giorni dei pazienti cardiopatici. Attraverso questo approccio omnicomprensivo direi che oggi la cardiologia riabilitativa si viene a collocare come vera cardiologia clinica, cioè nell'ambito di specializzazione della cardiologia ogni giorno è più importante, mi riferisco alla emodinamica, cioè a coloro che fanno le angioplastiche, all'elettrofisiologia, cioè a coloro che curano le aritmie, anche alla stessa cardiochirurgia, la cardiologia riabilitativa oggi assume questo ruolo di affrontare a tutto tondo il paziente. Pertanto per noi è stato veramente sì un onere, soprattutto vista l'attuale pandemia Covid, organizzare questo congresso, ma l'abbiamo fatto con grande spirito anche di servizio perché riteniamo che la cardiologia riabilitativa nell'ambito appunto della cardiologia generalista sia il modo più moderno e più attuale di trattare il paziente cardiopatico. Oggi le cardiopatie rappresentano, potremmo dire, grosso modo il 50% delle cause di morte e di morbidità. Chiaramente l'attuale pandemia Covid le pone, sembra porle in secondo piano, ma in realtà sono la causa principale di morte e di ricovero negli ospedali, per cui avere uno strumento efficace per ridurre il loro impatto direi che è qualcosa al quale non possiamo rinunciare e dobbiamo sempre più implementare. Direi che da questo punto di vista Cecina si colloca pur nel ruolo di paese, come diciamo noi abitanti di Cecina, si colloca invece come una città importante nel panorama della cardiologia riabilitativa. Grazie a tutti.